Ok, qua, cosa fate? Allora, prima prendete la mano della persona e state attenti veramente che il suo passo sia bello o morbido, ok? Se vuoi spostarmi, scusami. Allora, è importante che il corpo sia rilassato, ok? Se è duro, se è teso, andate con la mano sulla spalla e dite rilassa, 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 potete anche un po' smuovolo, no? Però adesso è abbastanza rilassato. Con l'altra mano gli dite segui le mie dita, solo con gli occhi, non con la testa, solo con gli occhi, e infatti praticamente questo gesto, questa cosa qua, adesso sembra strano, e anche questa è una cosa che devo fare a casa, ok? Se non ce la fate, non c'è problema, basta che ogni tanto lo muovete un po', e poi si rilassa, ok? Ok, segui le mie mano, segui le dita. E quando dico dormi ancora, non è che di infatti, se è che vuoi, ti rilassa, ti rilassa, ti rilassa completamente. Quando io dormi, ti rilassa completamente. se è che vuoi, ti rilassi, ti rilassi, ti rilassi, ti rilassi sempre, ti rilassi sempre, i più, sempre, sempre, più profondità. se lascia andare a tutto Pensa a quel luogo, quel posto, quella luce, dove stare così bene, ricarica, forza, energia, fa bene lo spiro profondo e fa un po' contro l'altra luna. Pensa a quel luogo, per il nostro corso, 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 per il nostro corso.